Questa volta tutti e 30 i tamponi hanno restituito un esito negativo e così può finalmente riaprire la cucina dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi dallo scorso agosto chiusa per via della presenza del batterio listeria rilevato per ben due volte dai controlli di routine eseguiti dal Sian e dal Siav. La notizia sulla presenza del pericoloso batterio era stata battuta da Antenna Sud lo scorso 19 settembre e poi confermata dalla stessa azienda sanitaria. Sin da subito quindi la preparazione dei pasti che era stata spostata in uno stabilimento di mesagni e gestito dalla stessa società che cura il servizio mensa torna all'interno dell'area del nosocomio messapico. Come spiega la stessa ASL i controlli effettuati in questi giorni su ambienti pieni di lavoro e attrezzature garantiscono una ripresa delle attività in piena sicurezza. Infatti i risultati forniti nella mattinata di martedì dai laboratori di Arpa Puglia non lasciano dubbi. Il batterio ritenuto particolarmente pericoloso per le donne in gravidanza al perrino non c'è più e speriamo che non torni.